Un percorso di immagramento è un percorso che porta ad un cambiamento e come tale è importante che la persona accetti il cambiamento. Occorre una spinta emotiva che parta dall'individuo stesso che vuole cambiare qualcosa della sua vita. È rivedersi quotidianamente diversi che influenza le nostre azioni quotidiane per spingerci e per portarci verso quel cambiamento. Cosa serve dunque per iniziare un percorso di dimagramento? La giusta motivazione. Ognuno ha la sua spinta motivazionale che può essere appunto la spinta al cambiamento, la spinta al benessere, può essere anche semplicemente indossare un abito nascosto nell'armadio. Motivazione che dovremo sempre quotidianamente visualizzare in modo tale da ricordarci ogni giorno quali azioni e perché io devo fare quelle determinate azioni. L'obiettivo del metodo è proprio quello di accompagnarti lungo la strada che dobbiamo percorrere. Grazie a tutti.